Come ho anticipato su Instagram, questo video contiene la mia chiacchierata con Fabio Cervera sull'argomento piatti. Forse non sapete chi è, ma ha cambiato la vostra vita più di Michael Jordan, dell'iPod e di YouTube messi insieme. Se non sei soddisfatto del tuo set di piatti, Fabio può davvero cambiarti la vita. Il video è molto lungo perché insieme abbiamo chiacchierato di tantissime cose, tutte molto interessanti. Ma niente paura, perché in descrizione trovi i marker temporali per andare velocemente nel punto del video dove c'è l'argomento che più ti interessa. Ti basta cliccare sopra il minuto evidenziato in blu. Purtroppo non ho potuto fare una diretta con Fabio, ma se vuoi fargli delle domande specifiche puoi scriverle qui sotto nei commenti. E ora passiamo all'intervista. Io credo che tu non abbia bisogno di nessuna presentazione, però la cosa che a me piace comunicare con gli altri, condividere con gli altri che vedranno questa nostra chiacchierata è il primo incontro che io ho avuto con te da acustica che mi ha cambiato praticamente i connotati, nel senso che credevo di sapere alcune cose sul mondo dei piatti e invece non sapevo nulla. Io sono salito a Napoli dieci anni fa, nel 2010, 2009-2010, un po' di tempo fa, ed eravamo in tre, eravamo tre percussionisti, batteristi, quindi comunque credevamo di sapere qualcosa sui piatti. E siamo arrivati un po' presuntuosi, nel senso che sapevamo cosa volevamo e punto e basta. C'è stato questo mio caro amico, Davide, che ti chiese un charleston e ti descrisse anche il suono che aveva in testa, però lui credeva che questo suono fosse, cioè potesse essere simile a quello di un K-Session, e tu ci dicesti subito che avevi questo piatto, ma non era un K-Session, ma un Hybrid, quindi sempre uno Zilgian, K, ma Hybrid, e fu il primo charleston che ci tirasti fuori, e poi ne provammo tantissimi, almeno abbiamo provato otto paia di charleston quella mattina, e questo primo charleston non ci piacque, però tu ci dicesti proprio, io vi assicuro, che se il suono è quello che mi avete descritto, questo è il piatto, poi fate voi. A fine giornata, risentendolo, era l'unico charleston che io avrei mai desiderato in vita mia, proprio, e io ero rimasto scioccato perché era il suono dei dischi, e quindi io da lì ho capito, vabbè, questa persona è da seguire perché posso solo imparare, ecco questa qui è la mia presentazione del mio incontro, il primo incontro con Fabio Cervera, quindi bellissimo. Diciamo che poi, insomma, per fortuna, insomma, per l'amicizia e per tutte le esperienze che abbiamo fatto, appunto, abbiamo avuto modo poi di incontrarci, anzi, diciamo che tu sei uno di quelli che comunque nei miei raggi in Minol stesso mi hai contattato per fare in modo che ti arrivasse quello che tu volevi fino in fondo, ho fatto anche una grande ricerca perché comunque tu mi spiegavi, anche se eri nel mio database, perché la maggior parte dei batteristi, col quale ho a che fare specialmente a distanza, nonostante io chiedo sempre a chiunque, l'ho scritto anche più volte, di farsi chilometri, ma veramente di chilometri, regarsi in un centro specializzato o in questo modo, appunto, da chi magari può saperne tanto in materia, è che comunque non faccia il venditore, in questo caso, ma come qualcuno mi chiama faccia il dottore, che abbia appunto la ricetta, che abbia la ricetta per te, sapere interpretare quello che tu hai nella tua mente, capire se è giusto con quello che poi vai a esprimere, perché spesso si danno delle spiegazioni, ma quando poi faccio provare dei piatti, già da prima mi rendo conto che probabilmente non coincide con quello che si sta dicendo, con quello che invece si ha in testa, perché mi rendo conto che il mondo dei piatti è talmente vario, è talmente pieno di prodotti che possono assecondare tante esigenze, che è anche facile potersi perdere in questa scelta, quindi quando si ha la possibilità sia di avere del materiale a disposizione, perché vedi, nel caso dei nostri incontri, prima di tutto tu devi avere del materiale giusto a disposizione, che si possa comparare anche nella maniera giusta con vari brand, con varie linee che funzionino, sempre a secondo delle esigenze. Poi, la verità è quella di di essere vicino al piatto, di provarlo con le proprie mani, di sentire ciò che accade, proprio la vibrazione che avviene tra il piatto, la bacchetta e la tua mano, cioè la bacchetta è il tramite, è proprio il punto di collegamento e chiaramente poi lì gioca l'esperienza del batterista, perché ci sono batteristi e batteristi che hanno svariate esperienze, svariate conoscenze sui piatti, ma che poi magari non tutti riescono a capire che ogni piatto invece, come dico sempre, va suonato in una certa maniera, è come una storia che bisogna sapere interpretare, perché appunto, come dicevo prima, esiste talmente di quelle linee così svariate di pesi, di curvature dei piatti, di campane, lavorazioni, che vanno suonate in una certa maniera. Quindi, anche lì c'è bisogno di un'attenzione a capire il piatto come va suonato, mi rendo conto che non è un'esperienza da tutti. Io che sono dall'altra parte, è che sono 30 anni che suono piatti tutti i giorni, quindi è facile. Però dall'altra parte io chiedo sempre una grandissima attenzione, perché non è che noi arriviamo con il nostro modo di suonare e secondo me il piatto lo suoniamo così, va comunque interpretato, va comunque conosciuto e questa è una cosa molto importante. Questa cosa che dici io l'ho vissuta in prima persona, perché quando ho avuto la possibilità, poi di salire su a Napoli e di farmi il set proprio assieme a te, io ho scelto di prendere i Minol, i Bisons, quelli uno su cento, perché li avevo sentiti a un ragazzo qua di Catania, Paolo De Petra, un bravissimo batterista, che lui voleva praticamente con un crash, un ride, un charleston fare tutto. E io, che non conoscevo i Minol, e io gli dissi subito, ma hai fatto una stupidaggine che ti sei preso questi piatti che secondo me non vanno bene. E lui me li fece sentire e io li provai. Quando li provai non riuscii a suonarli, cioè non riuscivo a controllarli, perché non ero abituato a quel tipo di pasta, a quella morbidezza, a quel tipo di controllo, però rimasi scioccato perché quando li suonava lui, che ormai si era abituato, erano stupendi. Erano davvero tre piatti con cui potevi fare tutto. Non avevi bisogno di altri piatti. Quel set poteva andare bene per tutto. E quindi io lì cominciai a dire aspetta, io voglio saperne ancora di più. E quando sono venuto a provare il set, ad assemblarlo, anche lì ho avuto all'inizio difficoltà perché comunque non c'ero abituato. E quando poi li suonavi tu, però continuava a innamorarmi. E quindi ho capito che era bello. È una cosa bella perché a me la batteria continua a farmi innamorare come strumento perché ha talmente tante combinazioni che si possono sperimentare che uno ricomincia sempre da capo. E quindi hai sempre la possibilità di imparare nuove cose. Certo, alcune volte può essere disarmante perché uno dice ma allora io non so nulla, non ho capito nulla dopo vent'anni, dopo trent'anni che studio, che suono. Non è che non hai capito nulla, è che è bellissima la varietà che ci può essere. Quindi sono d'accordissimo quanto è bella questa cosa. È così. Molti batteristi che raggiungono Acustica Napoli, appunto, il punto dove è un ritrovo di tantissimi batteristi italiani e che ci raggiungono da lontano, nella famosa Simba Room, appunto, che ormai molti conoscono che è diventata veramente famosa, per tante cose che sono accadute in quella stanza e per tanti batteristi veramente che ci sono passati, che hanno anche dato a me stesso un grandissimo motivo di crescere. Perché chiaramente ho imparato a conoscere batteristi di tutti i tipi, di tutti i generi, di svariati lavori che fanno, professionisti e non. Ho avuto anche modo di conoscere tanti batteristi in sordina bravissimi, eccezionali, anche se non ho fatto dischi importanti perché, sai, la musica ai suoi canoni in Italia è anche un po' particolare e difficile, ma ho avuto modo di conoscere veramente tantissimi batteristi. Anzi, io che spesso sono stato anche a vedere festival importanti di batteristi, specialmente per quanto riguarda il Minor Festival, e ne ho visti veramente tanti. Ho girato spesso, ma ritengo che l'Italia ha veramente tantissimi, tantissimi batteristi, tra l'altro nascosti, nascosti. E proprio a proposito di questo, spesso alcuni, quando sono arrivati da me, ancora un po' incerti su quello che loro acquistavano, io non li ho mai per forza convinti. Loro hanno riposto una grande fiducia a me e questo, per me è stato un motivo di grande soddisfazione, ok, e della stima che uno nutre per te. Ma la vera felicità per me è arrivata quando spesso mi è accaduto che questi stessi batteristi andavano via con un set, due set di piatti, ricevevo delle telefonate o dei messaggi anche piuttosto lunghi dopo circa quasi due mesi, cioè tanto tempo. E loro sembrava che appena erano usciti fuori dal negozio non erano acquistati i piatti. La verità era che loro in quel momento erano diventati padroni dello strumento, dei piatti che avevano acquistato, imparavano a saper sfruttare tutte le dinamiche possibili che può dare un certo tipo di piatto. Hanno imparato appunto a saperli interpretare, a saperli suonare, perché il piatto bisogna saperlo suonare, ok? Non è che uno prende per quote e così, cioè per me no, non funziona questa cosa. E quindi proprio questo mi ha fatto capire che certe cose hanno bisogno di un certo tempo, di un periodo di acquisire quello che lo strumento, nonostante loro avessero avuto piena fiducia, e lì è quasi come se avessero fatto un secondo acquisto, perché sono stati ancora più soddisfatti e avevano apprezzato il lavoro che era stato fatto insieme. Perché io poi comunque, come tu ben sai, dedico moltissimo tempo sia a chi viene da vicino che a chi viene da lontano, ma se deve comprare un crash o ne deve comprare dieci pezzi per fare set, siccome i piatti non costano poco, uno spesso è costretto poi a venderli, metterli sui vari mercatini, a fare permute, che di solito non è mai conveniente, c'è un dispiacere per poi ricomprare altro e mettere delle differenze, credo che se si può centrare il prima possibile degli acquisti, beh, forse anche un po' contro il commercio, contro un negozio, ok? Però io sono così, per me funziona così, io alla fine sono un venditore, ma è l'ultima cosa che penso quando ricevo un batterista da acustica, è proprio veramente l'ultima cosa. Io penso ad accontentare il batterista, indipendentemente dal brand, nonostante con Maynall, come ormai tutti sanno, io ho questo grandissimo piacere e onore di filmare piatti a nome mio, questi famosi uno su cento, selezione che poi è una grande storia ancora prima di Maynall, iniziata proprio con acustica, insomma c'è veramente tanto sulle selezioni, perché appunto io ho iniziato il mio lavoro vent'anni fa mettendo a posto uno scaffale, in un semplicissimo scaffale. Io ho iniziato a lavorare in acustica per gioco, veramente per gioco, ma già da prima ero molto attento alle sonorità, alle sonorità dei tamburi e i piatti in modo particolare. Leopoldo era in Giappone per una convention Yamaha, dove ti dare una mano al mio ancora oggi attuale collega Valerio, e gli diedi una mano, insomma, per quel periodo. Ricordo che visto che avevo modo di poter toccare ancora più facilmente i piatti sotto le bacchette, avere tanti piatti a disposizione, ricordo che cominciai, sono una persona abbastanza ordinata, c'era questo scaffale dove addirittura c'erano bottom, troppo messi insieme un po' di facelli. Da quello scaffale, io che ricordo bellissimo, è partita tutta la mia storia con i piatti, perché da lì ho cominciato a, come dire, a informarmi, a ricercare storie, lavorazioni, a poter visitare le fabbriche, come la Ufip, che è stata la mia prima fabbrica, dove ho potuto modo di essere ricevuto svariate volte, vedere le lavorazioni, provare tante di quelle cose, nuovi brand che si sono introdotti, tutte le nuove linee che man mano si sono susseguite, quelle che non funzionavano più. E nel frattempo, io cercavo di seguire tutte queste cose insieme anche alla musica, che comunque di conseguenza ha un'evoluzione. La musica ha dei periodi, ha dell'evoluzione, e di conseguenza le sonorità cambiano. Ho sempre cercato di capire, di studiare quello che c'era prima, con quello che c'era attualmente, e con quello che cercava di venire dopo. Che non è facile, perché ci vuole intuito, è consapevolezza e conoscenza, è un bel lavoro. Cioè, voglio dire, non è una cosa da niente. È molto complicato. Infatti, ho ascoltato anche cose che non mi piacevano, perché poi volevo sempre essere preparato, quando ero c'era un batterista, volevo sempre essere preparato sulle sue esigenze. Se suonava rock, se suonava jazz, qualsiasi cosa, qualsiasi colato. Cioè, batteristi che facevano solamente esperimenti, in musica sperimentale, volevo essere preparato. Quindi ho cominciato ad ascoltare moltissima musica di tantissimi periodi, cercando di trarre sempre meglio e facendo una grossissima attenzione, anche su quello che non mi piaceva. Questa è una cosa che mi è tornata utile. Ecco, perché poi qualcuno mi chiama il dottore, perché, diciamo, le ricette possono essere tante. Ok? E pare, pare, almeno a quel che si dice, che spesso sono riuscito, se non nella maggior parte dei casi, a poter accontentare i batteristi. Ma la base, alla base, ecco, ritornando a quello che un po' dicevo prima, non c'entra più la vendita. Tutto questo è stato perso ad accompagnare da una passione, perché credo che senza le passioni non puoi poter arrivare a certi obiettivi, ad avere un certo tipo di soddisfazioni. E come, ecco, Minol, oggi Minol, che è uno dei brand più importanti sul mercato, avendo una storia comunque diversa da Zidian, ma si è imposta sul mercato in una maniera incredibile, poter avere questa collaborazione con loro, poter filmare tantissimi piatti, poter selezionare e avere una propria firma sotto, che comunque fa storia, ha accontentato tantissimi batteristi, sono diventati dei riferimenti. E molti batteristi, quando hanno bisogno di certi piatti, aspettano anche i miei viaggi lì, che si potrebbero ordinare comunque, è una grandissima, come dire, è una grandissima soddisfazione. Ma ci tengo a precisare che gli uno su cento, gli stai poi non nascono con Minol, ma nascono da una grandissima iniziativa presa insieme a Leopoldo, perché? Perché praticamente poi la mia conoscenza, la mia passione, i batteristi che io ricevevo nelle altre sede vecchie d'acustica, perché l'acustica ne ha cambiate ben quattro, ok? E si è ingrandito sempre di più. Io, quando avevo un po' di tempo libero, io mi mettevo a selezionare i migliori piatti di tutti i brand che vendevamo. Poi, stavolta cercavo di prendere i migliori light, i migliori charleston, i migliori crash, ok? quelli che per me facessero la differenza, perché purtroppo, purtroppo, bacchetto anche delle aziende che non hanno un grandissimo controllo della qualità, specialmente quando ci sono dei piatti che costano veramente tanto e dei batteristi fanno dei sacrifici per comprare questi piatti e purtroppo c'è qualcuno che non si rende conto che il piatto suona male perché il gusto va bene, non va discusso, specialmente se tu hai una conoscenza e quel piatto, quel suono ti aggrada, che sia un crash, che sia un challenge, che sia uno splash, che sia uno effetto, che sia uno stack, ma nei momenti cui io, dalla mia esperienza prendendo conto che il piatto ha delle note non dritte, ma altisonanti, magari non ha un ottimo equilibrio, se è un ride crash che quindi si perde a certe dinamiche e non si ha l'esperienza, non voglio dire la capacità, ma non si ha l'esperienza di riconoscere un certo tipo di difetto, va, se proprio lo vogliamo chiamare così, e per me parlare del batterista non se ne accorge nemmeno, ma poi magari maturerà delle cose, quel piatto lo ritornerà indietro, lo ritornerà. A proposito di questa cosa, infatti uno dei punti che volevo toccare era proprio questo, mi ha anticipato, siccome è una cosa che mi è successa diverse volte, però mi succedeva spesso di comprare un piatto o magari comprarne due, un charleston e un ride, ok? Quindi avere un minimo di set assemblato, e io, vabbè, lì per lì mi piaceva e poi dopo un po' di tempo non riuscivo a capire cosa, cioè nel senso che non avevo l'esperienza e la consapevolezza di dire questa è la cosa che non funziona, ma quando la suonavo la sentivo, quindi molti batteristi pur non avendo consapevolezza ed esperienza per poter capire cos'è che non va, però lo sentono. Allora io mi chiedevo se volessimo prendere come caratteristiche peculiari di un ride e un charleston e un crash, cioè queste tre tipologie, diciamo macro, tipologie charleston, ride e crash, se uno volesse andare a capire cos'è che non ci deve essere e cos'è che ci deve essere per ognuna di queste potresti spiegarcelo in qualche modo? Certamente, questa è anche una risposta un po' ampia perché in realtà ci sono due argomenti da toccare, ok? Allora, prima di tutto è capire il batterista in quanto tempo vende dei piatti, perché i batteristi sono incontabili con i quali ho avuto a che fare a comporre set di piatti o anche di coppie di crash o che che sia, ok? Perché batteristi molti attenti, molto attenti hanno proprio delle vere e proprie evoluzioni, cioè batteristi che tanto studiano, iniziano con dei generi, poi magari subiscono delle influenze che o il maestro o un batterista che tanto gli piace li fa modificare, ok? E questa può essere una prima spiegazione di un certo tipo di cambio di piatti, una prima spiegazione, quindi questo è il batterista matura, tanto è vero che io spesso dico anche ok, tu hai iniziato con questo piatto, si cominciano con un ride o con un charleson a cambiare qualcosa e dico ci rivedremo fra due o tre mesi perché già so che tornerai e ti venderai anche il resto dei piatti che tu hai, perché appunto quando si cominciano magari a cercare una tipologia di piatto o più pesante o più leggera come gli ultimi anni ormai ci stanno insegnando perché sono cambiate le esigenze dei batteristi perché sono cambiati i modi di suonare i piatti come anche la stessa cosa per le batterie prima si portavano molto i rullanti molto bassi oggi si portano i rullanti molto alti e questa è una cosa che invece ti posso garantire che il gistro già sta cambiando stanno ritornando un'altra volta i rullanti bassi fra poco vedremo case che ricominceranno a rimettere in commercio rullanti da 4 mondici che in realtà quasi non si vendono più quindi alcuni batteristi cambiano i piatti perché hanno delle evoluzioni e quindi delle esperienze però poi il punto forse invece da sottolineare è quello un po' che ti dicevi perché non si fanno i chilometri allora il discorso è questo noi oggi con la tecnologia abbiamo dei brand fantastici che spendono tantissimi soldi per fare dei siti incredibili dove vedi il piatto in tutte le sue forme in tutte le sue foto e anche con svariati sample audio ma purtroppo purtroppo c'è da dire che per quanto riguarda i sample audio per quanto possano essere fatti bene io purtroppo ci credo fino a un certo punto perché non sappiamo come stiamo ascoltando questo sample audio se su un bellissimo computer all'ultimo grido e con delle casse incredibili ok o con un telefonino via e basta o chi che sia ma sarà sempre un audio processato sarà sempre un audio che ascoltiamo attraverso una macchina e non attraverso le nostre orecchie che non sono una macchina ma bensì è una macchina umana ok non stiamo suonando quel piatto con il nostro tocco perché sappiamo perfettamente che lo stesso piatto ok se lo suoni te e lo suono io comunque avrà delle sfumature diverse perché abbiamo un tocco diverso di come lasciare la bacchetta sopra il piatto e di come percuotere la bacchetta sia se lo suoniamo con la bacchetta con la testa sia se lo vogliamo cresciare qualsiasi cosa essa sia ok quindi i sample audio servono a dare un piccolo aiuto di uno standard che è quello che la casa vuole dimostrare a chi ascolta quel piatto al tipo di prodotto ma in realtà lascia sempre il tempo che trova perché seconda cosa se io prendo come tu ben sai due stessi piatti due ride stessa misura stessa lavorazione stesso brand i due ride suoneranno sempre in maniera diversa avranno uno standard di suono ma comunque avranno delle sfumature diverse ecco che qui poi entra in gioco il mio lavoro anche prima di Minol di selezionare piatti che facciano una differenza e di fare anche in modo che non ci siano piatti messi in commercio ok che secondo me a mio avviso non dovrebbero essere messi in commercio questo vale per tanti dico prendendo prendendo un ride un ride che tu scarteresti no si che cosa ha per essere scartato dipende dal ride che lo stiamo scegliendo prima di tutto perché se vogliamo parlare di ride diciamo quelli che oggi più sono richiesti quindi il ride che non è più il classico ping che vogliamo da un ride ma vogliamo un ride che abbia un overton che abbia una coda che abbia una dinamica perché oggi il ride è diventato crash anche ok si richiede anche quindi un piatto che sia morbido che flette per avere questo tipo di caratteristica beh innanzitutto dobbiamo capire se ha un ottimo equilibrio di leggerezza ok per essere crash ma per poi suonarlo anche con la bacchetta perché prima di tutto è ride ok altrimenti ci compriamo un crash da 20 e abbiamo risolto è un ride quindi se io vedo che quel ride è talmente leggero e quindi non ha un ottimo equilibrio per quanto tu lo possa suonare pianissimo perché sono batteristi che riescono ad avere delle dinamiche incredibili ne ho conosciuto uno ultimamente che mi ha veramente scioccato ok mi ha veramente scioccato comunque se quel piatto per esempio non ha quel tipo di equilibrio ha un piatto che ti può tornare contro per l'eccessiva leggerezza altri errori che spesso viene commesso da batteristi che pensano semplicemente ad acquistare il piatto in base alla leggerezza e non in base all'ascolto questo si vede spesso quanto pesa io sto cercando un ride di 2,3 non è che sia il macellaio è un errore purtroppo è un errore mi dispiace perché lo fanno anche dei batteristi bravi e noti ma è un errore per me è sempre il mio punto di vista ok ma è un errore perché non è vero che un piatto di 100 grammi o di chi che sia fumi meglio di un altro che ne pesa un po' di più non è assolutamente vero anzi bisogna fare attenzione ai piatti troppo leggeri perché oltre a quello che ti ho detto specialmente nel caso dei ride hanno anche delle note che non sono proprio gradibili poi quando vengono riprese col microfono certo quindi c'è anche l'altro aspetto c'è anche l'altro aspetto perché non dobbiamo immaginare il piatto ok semplicemente il rapporto uno a uno non la batteria lo suoniamo il piatto va ascoltato va immaginato anche come ripresa microfonica o in un certo tipo di live che ha ancora un'altra ripresa diversa rispetto allo studio certo questo sono io poi magari a dare delle spiegazioni o sempre dipende dalle esperienze di cosa ha registrato e di quanti live abbia fatto il batterista però per esempio un ride quindi o troppo leggero o che spesso ci sono dei piatti che non hanno una nota dritta ma proprio fanno un tipo di oscillazione ok però oscillazioni fanno tipo una cosa del genere che io avverto ma che può avvertire chiunque ma se non la noti perché non ci fai caso o non hai un certo tipo di esperienza riesco di non avere un piatto che poi sia veramente eccezionale e l'hai pagata anche un sacco di soldi e purtroppo purtroppo come dicevo prima bacchetto alcune case che per visto che comunque sono hanno la loro storia magari al controllo qualità mettono dei piatti costosissimi che spesso quando poi incontro batteristi che comunque ne capiscono e hanno un certo tipo di esperienza convengono con me che dicono un piatto di 5-600 euro che non è proprio eccezionale e viene scartato e questa è una cosa che secondo me non deve avvenire perché un piatto che costa tanto veramente non deve avvenire neanche per un piatto che costa di pieno sinceramente ma probabilmente io ho messo in un'azienda un controllo la qualità mi farebbero fuori subito probabilmente perché probabilmente non sarebbe conveniente per loro io io la penso così ecco perché cioè però è chiaro che se tu prendi se tu compri un piatto ultra professionale pregiato che costa anche 5-600 euro magari può non piacerti quel piatto però non deve avere dei difetti cioè questo è il discorso no? cioè se io anche non ho la possibilità di provarne 10 di quel marchio di quella serie e fare una scelta però quantomeno non si deve allontanare troppo dal suono che descrive dal suono che dovrebbe avere e non deve avere queste note che non sono tutte quante dritte non deve essere troppo leggero o troppo pesante deve avere una campana che si sente e che non sia troppo invasiva magari sto dicendo no cioè deve avere uno standard poi lo possiamo scegliere per quello che vogliamo a confrontarlo ma infatti le aziende dove io spesso sono hanno dei golden sample ok poi io chiaramente conosco i vari controlli qualità hanno dei golden sample dove loro si rifanno e seleziono un due di piatti ok nel caso quando io sono al lavoro quando seleziono un piatto come tu stesso dicevi posso anche mi sono trovato spesso a selezionare dei piatti che io non avrei mai nel mio set ma in quel momento io devo avere la capacità ok di dimenticarmi ciò che sono io ma capire la qualità del piatto capire quel tipo di lavorazione che indirizzo ha a che tipo di batterista è dedicato capisci è rivolto che sia metal che sia soltanto rock che non così non un rock estremo che sia jazz che sia latin e questa la capacità poi secondo me di un selezionatore di piatti di uno che faccia un controllo qualità per capire meglio il golden sample sarebbe un il golden sample non sono altro che dei piatti che hanno uno standard elevatissimo di cui un controllo qualità chi ha detto un controllo qualità si rifà a quel tipo di piatto suonandolo tenendolo davanti e facendo dei confronti come spesso io faccio dei confronti nella mia stanza al lavoro il confronto è la vera chiave di tutto è la vera chiave di tutto come appunto io e te abbiamo fatto quando abbiamo fatto i nostri set quanti red avremmo provato quanti crash quanti channels per capire il confronto si ragiona innanzitutto per il mondo in cui noi ci vogliamo addentrare perché appunto i piatti hanno le varie scuole di pensiero cioè quella americana dove ci sono più aziende c'è quella turca dove nasce il piatto della storia ce ne sono di più c'è quella italiana c'è quella svizzera oggi esistono tanti brand con tante linee con tante scuole di pensiero poi c'è chi la fa da padone perché cavalca un'onda dove ecco magari in anticipo ha capito quali erano le direzioni musicali ma non dimenticando che in passato ci sono stati tanti altri brand che hanno cavalcato un certo tipo di onde così come Paest così come Sabian e altri ancora questo qui è un argomento molto interessante anzi io lo lancio così chiedendo a chi vede questo video di commentare di farci sapere se magari potrebbe essere interessante fare una serie di episodi su questo argomento dei piatti e magari parlare appunto di queste differenze tra il modo di fare piatti in America in Turchia in Svizzera magari possiamo anche lanciare dei piccoli dei piccoli assaggini però siccome è un argomento che sicuramente richiede tempo si potrebbero pensare proprio delle puntate allora io vi chiedo a tutti quelli che guarderete commentate e fateci sapere cosa vi piacerebbe cosa vi interesserebbe di tutto questo no per tornare un attimo a quello che dicevamo prima io non so se è corretto dire così però bisogna avere chiara l'idea che il piatto è come un tamburo cioè se tu un tamburo lo accordi molto alto cioè tendi la pelle e quindi è duro suonerà più alto se invece molli la pelle quindi è più morbido suonerà più in basso allora io credo che più o meno è lo stesso discorso il piatto non lo puoi accordare però se ha una pasta più morbida suonerà più basso se ha una pasta più dura suonerà più alto che non dipende credo solo dal peso allora diciamo che il peso sicuramente influisce molto su una sonorità di un piatto ma chiaramente influisce la curva il tipo di campana il tipo di lavorazione che poi ha nella parte finale del piatto perché come dicevamo prima esistono vari modi di lavorare i piatti ma poi esistono le lavorazioni finali che determinano poi delle linee danno vita delle linee delle linee poi che hanno dei rangi di peso perché attenzione è importante anche questo quindi per esempio se vogliamo parlare di Ufip ok parliamo di Ufip Ufip fa i Bionic che è una linea un po' più pesante ma Ufip darà la possibilità nella sua stessa linea di fare i light i medium e gli EV ora un light bionic non sarà mai come un light della serie class che è una serie secondo me intraportabile è sempre eccezionale che funziona sempre perché non è che il light è quello il light è quello no assolutamente il light bionic avrà sempre più grammi rispetto a un light class dell'Ufip ok e questo è determinante punto uno ma sono anche dei piatti che hanno una lavorazione totalmente diversa quindi di base c'è il tipo di peso che determina certe caratteristiche poi esistono le curvature dei piatti che determinano un certo tipo di frequenza così come determinati suoni sono generati da campane piccole e altri sono generati in maniera diversa da campane molto più grandi sono delle vere e proprie alchimie quindi non è soltanto il peso perché il peso va in base anche al tipo di piatto al tipo quindi di linea che sta per nascere indipendentemente dal brand come appunto i piatti che hanno la finitura gloss quindi quella là tipo così vedi ok questo tipo di finitura determina un certo tipo di suono ma che è diversa da questa ok come quelli lì a doppia lavorazione che vediamo qui quindi sono vedendoli possiamo avere anche già delle indicazioni perché per esempio i piatti che hanno questo tipo di finitura sono dei piatti che sicuramente sono in maniera più dry sono più secca però da non confondere perché esistono anche dei piatti che hanno la stessa finitura ma sono pesanti io mi rendo conto che è veramente cioè per esempio i famosi Istanbul i Turk Ride se non li vediamo sono quasi simili ma in realtà hanno dei pesi totalmente diversi sono in maniera totalmente diversa i Turk Ride sono molto più duri e appartengono a un periodo dove si cercava più la definizione di un ride oggi non è più così oggi da un ride si cerca questa vedi guarda come flette cioè per dirti e quindi uno visivamente lo può immaginare uguale può già andare a finire su quel tipo di lavorazione scegliendoti appunto su internet come dicevamo prima però se non sa se non sa appunto questa cosa qui uno lo guarda dice ah beh è come l'extra dry della Minol io sto cercando quel suono questo costa meno prendo questo e poi gli arriva un piatto che in realtà ha caratteristiche diverse magari è bellissimo però ha caratteristiche diverse certo certo ecco perché e allora purtroppo avviene poi il cambio lo scambio come tu dicevi prima vendite sui mercatini bisogna 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 farsi chilometri bisogna farsi chilometri perché quello che si spende il tempo che si impiega sarà sicuramente ben ben ripagato è così è così e poi siamo sempre lì andare in un centro dove si possono confrontare anche appunto le varie scuole di pensiero delle costruzioni di piatti è determinante secondo me è determinante perché lì io richiamo i vari mondi cioè il mondo turco oggi è un po' come cambiare religione come cambiare dieta sono dei termini che uso spesso rispetto al piatto americano qual è la differenza qual è la differenza beh innanzitutto innanzitutto ti dico che alcuni tipi di lavorazioni proprio sui piatti leggeri ok il mondo dei piatti turchi come Mainel come Istanbul come Turkish come Bosphorus ok hanno a mio avviso molto più da dire hanno avviso molto più da dire perché infatti se andiamo a vedere nei cataloghi Zildian per esempio azienda che non ha bisogno appunto di presentazioni e di grandissima storia non offre molto sui piatti light ad esempio non offre molto sui piatti light sulla varietà dei piatti light è molto più ristretta perché è vero sì che possiamo partire dai classici K che sono un punto di riferimento è vero sì che poi i K custom appunto i custom si suddividono in altre tante linee hybrid special dry per richiamare oggi quello che è in tendenza ok anzi proprio su questo argomento ci voglio ritornare eventualmente per dare un'informazione ritornando i K custom i K custom session e poi i famosissimi Costantinopoli che sono quelli magari più leggeri ma che hanno anche delle campane diverse rispetto a quelle che fanno i turchi quindi la famiglia la famiglia Zildian è turca ma comunque di di turco hanno poco e nulla attualmente non hanno più nulla perché Zildian a fine degli anni 60 ha inseguito il famoso sogno americano ha avuto ragione loro sono stati appunto tra i primi probabilmente in assoluto la loro arte dei piatti è quella che comunque appartiene alla storia solo che loro quando sono andati in America hanno cambiato a mio avviso molto il modo di lavorare ma siccome i mezzi che esistono oggi tipo internet che è il minimo per poter ascoltare tante cose non esisteva non esisteva quindi loro che sono stati i primi e che avevano già dei grossi batteristi perché esistevano soltanto loro ok erano l'unico standard che si utilizzava ma nel frattempo in Turchia esistevano tante altre famiglie come poi negli anni 80 ha cercato Istanbul tanto di venire fuori no? di venire fuori e dire i piatti turchi siamo noi sai poi questi prendi sono fatti anche un po' di guerra ognuno lanciava i propri missili direi così quindi i propri prodotti ma è giusto che sia solo che credo che Zidian con una grandissima potenza economica e con i grandissimi batteristi che l'hanno sopportata hanno un po' scurato per tanto tempo le famiglie turche ok perché appunto poi Zidian è il prodotto più importante che abbiamo in America ma ti ripeto quando poi si parla di Bosporus di Anatolian di Turkish di tantissime altre marche e come Meinol che ha sede in Germania dove vengono rilavorati i piatti ma comunque ha una vera e propria fabbrica di veri e propri capolavori in Turchia oggi a mio avviso l'hanno molto molto da dire c'è proprio la rinascita secondo me in questo periodo già da un po' del piatto turco c'è proprio un grandissimo ritorno si stanno proprio risposando delle esigenze mettendo secondo me anche un po' in difficoltà alcuni ricercatori di un certo tipo di sonorità di piatti credo che in questo momento i turchi favoriscano molto 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 più prodotti favoriscono su un piatto ecco proprio il caso di dirlo quindi ricetta americana ricetta americana sabbian ziljan possiamo accomunarle allo stesso tipo di sono sicuramente diversi sono sicuramente diversi per certi aspetti però comunque hanno una vera e propria identità amatissima comunque amatissima comunque che forse anche in maniera giusta si discosta da quelli che rimane fedele alla sua sì ma è giusto che sia così come la stessa lo stesso made in italy ufip che ha una grandissima storia oggi a mio avviso ha anche delle linee molto interessanti io l'ultima volta ho provato i blast dry che ho trovato dei piatti eccezionali hanno fatto anche ancora un'ultima linea bellissima ho provato ho avuto modo di provare dei prototipi e non mi sono dispiaciuti vanno visti con una chiave diversa e lì poi il famoso mondo che io poi dico ognuno appartiene a un mondo ognuno ha un modo di mangiare ok e quindi visto che parliamo di piatti battuta un po' ci sta ci sta ok vogliono un modo di mangiare e per fortuna l'importante è che quando poi si spendono dei fondi si possano spendere nella maniera giusta e quindi può essere equativati nella maniera giusta io ritengo che ognuno faccia delle cose interessanti e poi c'è il battelista che si ritrova ma sicuramente si distingue l'americano dal turco come da quello italiano come dai cinesi perché anche i cinesi fanno dei piatti che a mio avviso sono molto più bravi su fare gong tan tan e altre cose loro hanno una tradizione incredibile su questo tipo di prodotto e come esiste la famosa paese in Svizzera che ha una grandissima storia specialmente nel rock specialmente su un prodotto che è un laminato un prodotto che è un laminato che tutti sanno sui 2002 che comunque li fanno pagare non poco ma loro hanno svariate linee in B8 o di ma mi direte che cosa è possibile è così diciamo che i piatti i piatti diciamo quelli più professionali sono fatti in B20 il B20 non è altro che una fusione in percentuale tra rami e stagno che genera il bronzo il famoso bronzo B20 poi esiste B10 B12 e B8 riconoscibile perché è anche quello più rossiccio e di solito si lavora su dei veri e propri laminati quindi non il classico panetto ok che poi viene steso con i vari procedimenti che comunque spesso si possono vedere anche su canali YouTube ma hanno dei procedimenti di lavorazione diversa però comunque Paist ha la sua storia ma la lavorazione sul laminato per Paist ti avviene solo sui 2002 o anche sui Signature allora non credo non credo che i Signature siano dei laminati sono dei signori piatti specialmente i 602 ritengo che siano un prodotto di altissimo ma veramente altissimo riferimento ma assolutamente no non è non è un laminato e c'è il panetto pure lì oppure un altro modo ancora io purtroppo non ho mai avuto modo di visitare la Paist ti dirò insomma credo che esista un panetto anche lì ma sicuramente sarà così non credo che sia assolutamente una cosa impossibile ottenere da un laminato quel tipo di di sonorità assolutamente così mentre molte aziende lavorano poi comunque il laminato per vendere il loro marchio o un prodotto a chi vuole spendere di meno anche a chi magari all'inizio perché sai a volte spendere tanti soldi per un piatto che magari non è un certo tipo di esperienza tu non apprezzi le qualità del piatto è come chi non ha mai bevuto vino io cioè io non sono pronto a bere vino ok allora magari non posso fare delle differenze non posso apprezzare il vino buono ma magari non riuscirò mai ad apprezzare la differenza fra un vino classico che troveremo al supermercato a 2 euro e un vino importante perché non ho un certo tipo di esperienza secondo questo tipo di esperienza no certo ecco quindi magari i piatti in B8 che comunque fa mai non lo fa anzi Sabia li chiama proprio B8 in questa maniera i Supernova anche Ufip credo che siano certo tra l'altro suonano anche molto bene molto bene si suonano molto bene è un prodotto che può costare di meno per esigenze più facili per chi ha comunque forse un po' meno esperienza poi ecco quando invece comincia ad essere più esigente a lavorare di più con la musica a cercare un certo tipo di prodotto che ti soddisfi allora lì poi entri nei cataloghi vari e quindi hai le svariate possibilità senti ma a me veniva in testa questa domanda più che altro perché era una cosa che spesso mi capita appunto di dover rispondere soprattutto agli allievi quando magari iniziano a voler cambiare set perché hanno preso la prima batteria il primo set di piatti ovviamente economici o in B8 però a un certo punto le esigenze cambiano allora quando mi chiedono ma io vorrei andare a comprare i piatti io dico sempre se già tu stai facendo un salto cioè se se hai già una consapevolezza diversa di quello che vuoi io credo che sia giusto comprare in set o quantomeno se non puoi permetterti di fare tutto in un'unica spesa per assemblare un set da cosa partiamo da cosa si deve partire e poi piano piano cosa possiamo aggiungere allora ti dico subito chiaramente su delle batterie entry level esistono anche dei piatti in ottone quelli famosi gialli che magari appunto che un po' tutti quanti avremmo visto oddio esiste anche qualcosa di peggio i piatti proprio quelli che si piegano saranno in stagno su batterie quasi giocattola ma quelli non li consideriamo ok perché poi magari un genitore che porta il proprio figlio o chi è veramente all'inizio non sanno che i piatti seppur viaggiano parallelamente è uno strumento ma non c'entrano niente in certi uno strumento uno strumento a parte è uno strumento a parte però quando uno compra un entry level diceva io ho visto anche i piatti sulla batteria non ci sono e quindi ce li mettono sulle batterie entry level quindi dimenticandoci i piatti proprio super economici partiamo dall'ottone è un conto e quindi lì sono veramente magari i primi piatti che magari non si piegano a meno che non li prendi proprio a martellate e lì penso che hai qualche problema va detto anche questo anche perché molti che per conto dei piatti quanto è più forte è possibile il piatto non è che poi suona più forte il piatto collassa e non suona più e poi si crepa anche quindi il primo strumento è il piatto in ottone se già compri invece dei piatti in B8 tipo MCS Minol B8 Sabian ZABT Zidian Zidian vi dicendo sono dei piatti che sicuramente suonano molto meglio dei piatti in ottone e puoi cominciare a fare un certo periodo di studio tranquillamente lì perché è lì che con l'ascolto del tuo strumento con i piatti sotto mano con le tue varie esperienze col gruppo all'inizio comincerai attraverso la tua esperienza ad avere delle esigenze qualcosa quasi guarda incredibile e di magico è automatico non so come neanche come descriverlo ma ti scattano proprio dei veri e propri gusti che tu si è alla ricerca proprio delle sonorità capisci e quindi lì spesso si va anche in crisi si va anche in crisi perché ti comincia a piacere quello ti comincia a piacere quell'altro passa un altro mese e ti comincia a piacere l'altro quindi magari se uno ha già fatto uno step che ha veramente anche dei piatti in un set tipo oggi si prenderanno dei buoni press anche dei piatti KZ che prima costavano una cifra incredibile oggi con 1000 euro riesci a portarti dei signori piatti a casa allora uno dice ok ho risparmiato ho comprato comunque dei piatti di riferimento che parliamo di KZ quindi di piatti eccezionali piatti versatili ok e ti ritrovi che comunque senza comunque hai speso una cifra ma non avrai speso tipo 2000 euro per un piatto K per un set di piatti K avrai degli ottimi piatti e magari quelli te li tieni anche però poi scatta quel tipo di ricerca di cui ti parlavo prima perché più si va avanti e più magari andrai in crisi e allora comincerai ad andare se rimaniamo con Zilla comincerai a dire voglio i Costantinopoli voglio i K K Lite per esempio Charleston da 15 perché si cominciano a inseguire delle misure più grosse per i Charleston quindi più scure più pastose e via dicendo i ride che cresce perché il K non è un ride che se tu lo vuoi crescere come oggi vogliono molti c'è anche chi addirittura invece odia questa parola crescere sul ride dice il ride deve fare il ride e io rispetto io rispetto questa cosa perché non è detto che visto che oggi il piatto ride si deve crescere io devo per forza avere il piatto ride cresciabile assolutamente no io non faccio noti ma conosco un batterista incredibile lui ha preso tantissimi e ti dice Fabio io quando sento parlare di ride cresce quasi mi incazzo dal suo punto di vista per me ha ragione ha ragione quindi non è detto però se esiste anche questo tipo di batterista che comunque vuole il ride cresciabile deve andare sul light perché il K se poi lo vuoi crescere non ti crescerà mai bene perché non è un piatto che ha dei requisiti di peso e di flessibilità che ti possano dare una cresciabilità a mio avviso gradibile poi è chiaro tu non puoi crescere lo stesso e dici ah mi piace lì nessuno ti può dire nulla cioè nessuno ti può dire nulla perché poi lì dipende sempre anche mi dispiace dirlo ma da chi sei e dal tipo di esperienza perché io chiaramente ho imparato a capire uno da come si siede dietro la batteria da come tocca i piatti da ciò che mi dice anche il tipo di esperienza che ha acquisito negli anni e quindi dove è diretto sempre per il discorso che ti facevo prima per ciò che ha ascoltato per ciò che ha visto per ciò che ha confrontato per il suo vissuto sì e per questo quindi comprare un set oggi sicuramente può essere una cosa conveniente per non pagare tanto ma dipende sempre in che periodo di esperienza tu ti trovi con i piatti se ti trovi per esempio a fare il salto cioè che tu stai cercando la tua sonorità e quindi vuoi passare da un set magari che non è quello in ottone e non è neanche quello in viventi o è un set anche in viventi però magari l'hai assemblato con piatti usati presi con le occasioni su internet tu hai il tuo set però appunto tra di loro non riesci a farli dialogare e non ti rappresentano perché stai cercando un nuovo modo di ecco quello che cercavo quello che cerco di capire spesso e di aiutare gli allievi e anche gli amici che mi chiedono nella scelta è se io non posso permettermi due crash il ride del charleston tutti in un'unica volta ma voglio avere un set che abbia un'identità da cosa parto? dal charleston e dal ride magari per cominciare? oppure solo dal ride? cioè esiste un modo per poter assemblarlo anche in due volte un set? certo il modo esiste perché molti batteristi fanno dei sacrifici per comprarsi dei piatti io credo che partire dal ride dal charleston sia la cosa migliore per un semplice motivo nonostante siano quelli che costano di più rispetto a un crash ma ritengo di partire da loro perché sono quelli che tu più suoni durante un brano come cassa rullante charleston cassa rullante ride certo e siccome avere i suoni che ti piacciono ti stimolano anche a suonare bene a godere di ciò che stai facendo è come quando uno io dico sempre forse sempre gli stessi esempi se uno deve fare un viaggio e si siede in un'auto si deve mettere bene il sedile a posto guida nel suo posto perché deve essere comodo deve fare un viaggio è la stessa cosa tu col suono che ti rappresenta devi essere comodo ti deve far star bene ok ti deve rappresentare e ti deve far star bene quindi siccome i ride del charleston sono quelli che tu suoni di più in un brano musicale parti da quello o inizi con il charleston o inizi con i randi se non ti puoi permettere magari all'inizio tutti e due magari nel frattempo soffri certo soffri godrai anche però dell'ansia di ritornare perché esiste anche questo si gode dell'ansia di ritornare magari di avere un incontro riportare quello che già hai comprato rimontarlo e cominciare ad aggiungere i pezzi spesso ho fatto questa cosa cioè chi appunto è partito con un ride è partito con un charleston ride e poi si è venuto a prendere i crash o chi ha preso un set e poi dice parla parla per il momento va bene così poi voglio farmi uno stack poi voglio fare un china poi voglio farmi un fx o qualunque cioè quindi credo che meglio soffrire perché tutto vorremmo come i bambini noi vorremmo tutto e subito anche io spesso non mi accontento mai e di piatti ne ho non mi accontento mai e quindi quando escono delle novità non vedo l'ora di regarmi in fabbrica e andarmeli a scegliere soffro un po' soffro un po' però l'attesa 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 ti paga ti ripaga anche perché appunto poi non si fanno degli errori capisci io spesso dico meglio non comprare per un ripiego meglio non comprare per un ripiego perché ti torna contro ti torna contro perché poi comprare un piatto che non ti piace lo dovrà rivendere ci perderai altri soldi ok e il piatto che poi ti rendi a comprare ti è costato non dico il doppio ma ti è comunque costato di più certo e poi non sei soddisfatto sì sì questa cosa l'ho vista succedere spesso anche capita di stare in negozi e magari tu sei andato a prendere un paio di bacchette o a cambiare le pelli e magari arrivano dei ragazzi o delle persone che vogliono provare i piatti spesso questo mi capita con dei ragazzi giovani accompagnati dei genitori non musicisti che vogliono fare contento il figlio ma non sanno in cosa si stanno imbarcando quindi praticamente tu vai nel negozio alle 5 e alle 6 hai un appuntamento di lavoro è meglio che non glielo porti il tuo figlio perché se no in un'ora se davvero sta cercando queste sonorità non ci riuscirà mai neanche a trovarsi uno splash non può cioè poi alla fine viene pressato dal fatto però io oggi ho per comprarmelo quindi me lo devo comprare a me questo è successo quando ero più ragazzo più giovane e non avevo avuto determinate esperienze però magari mi ero raccolti i soldi vado nel negozio a 100 km da casa si deve fare quel giorno perché non ci posso andare il ride mi si è rotto lo devo prendere il piatto e poi piangi poi ci resti male e così ci resti male sì ci resti male sì ecco perché io invito sempre tanti miei colleghi a quali ho con alcuni di svariati negozi a nord e a sud ho legato ci siamo scambiati delle idee spesso loro anche mi hanno chiesto delle cose io dico sempre che se si ama il proprio lavoro automaticamente dai delle soddisfazioni a un cliente e raccogli anche tu stesso delle soddisfazioni tutto dipende poi dalla voglia che tu hai io come ti dicevo prima ho un grandissimo database di svariati batteristi che vanno da nord a sud dell'Italia e quando per fortuna almeno un incontro l'ho avuto con loro e pur lungo ho imparato a conoscerli l'immagine mia d'errore di inviargli dei piatti si riduce quasi a zero spesso lo hanno scritto lo hanno commentato perché come è come se io li portassi in negozio tu sei già sei già la persona quello che cerca la sonorità ci hai parlato si si ti ho sentito suonare ti ho sentito suonare gli mando anche dei sample pur parlando male dei sample oppure non proprio bene non che voglio parlare di male però gli faccio comunque capire già delle cose col piatto che ho davanti che probabilmente gli spedirò e poi anche lui anche quel batterista ha avuto già l'esperienza con te con quel marchio con quel tipo di piatta sa cosa vuole e quindi probabilmente il sample che sente anche fatto col telefonino voglio dire lo introduce in un discorso che già conosce quindi il margine di errore no io questo lo dico perché due piatti tu mi hai mandato così non sono potuto io avevo il set e poi gli ho aggiunto due cose e in effetti è stato facilissimo e non me ne sono pentito nel senso che era quello che stavo cercando quindi posso confermare che è vera verissimo questa cosa è rara ma in questo senso succede dalla conoscenza reciproca ovviamente dalla tua esperienza certo ma guarda per fortuna oggi mi capita spesso cioè la fortuna di conoscere questi batteristi la fortuna magari anche loro di poter riporre fiducia ma ultimamente io proprio in Sicilia per dei bravissimi batteristi ho spedito dei fondi di reserve incredibili incredibili dei viatti quasi a tiratura limitata eccezionale e che hanno un certo costo e devo essere sincero i batteristi sono stati proprio entusiasti quando li hanno ricevuti perché era quello che loro volevano però ho avuto comunque sempre quel famoso incontro con qualcuno mi è capitato anche di non avere l'incontro devo essere sincero mi è andata bene che ti devo dire mi ho fatti parlare tanto ci siamo scambiati un po' di telefonate un po' di telefonate non una un po' di sample per cercare di arrivare a un compromesso ed è stato giusto ed è stato giusto quindi ecco è sempre un grosso lavoro che io mi impegno a fare e che secondo me molti potrebbero anche farlo basta basta volerlo basta avere delle attenzioni e come ben ti dicevo io ho iniziato mettendo a posto uno scaffale oggi mi ritrovo a essere un estimatore di piatti a essere un selezionatore un competente come molti mi chiamano e attraverso un certo tipo di esperienze o comunque di feedback positivi e non mi sono mai fermato non è che mi fermo ecco prima i piatti li filmavo con il pennarello in negozio ok ma esistono i piatti in Italia di vari brandy dove io li filmavo con un pennarello oggi i piatti vengono timbrati dalla Minol al laser perché nessun piatto arriva se non sono io lì in fabbrica e a lavorare per alcuni giorni e a fare un attento lavoro perché poi hai anche una responsabilità beh certo hai una responsabilità non è che dici ok io sono apprezzato sono apprezzato questa esclusiva sì è di acustica io lavoro lì da anni e quindi dici va bene no per me non funziona così ritengo che ci sia anzi ogni volta divento sempre più esigente divento sempre più esigente tanto è vero che mi hanno preso anche in giro ultimamente perché mi ha accompagnato anche Leopoldo in Biden e gli spiegavano poi noi abbiamo due controlli qualità qui e poi c'è anche Fabio l'ulteriore gradino non piacciono questa battuta con Leopoldo perché mi accompagna ultimamente e dissero questa cosa io mi fissi veramente tante risorse ho onorato di questa cosa però è così il fatto è una cosa fermo restando che spero di poter lanciare questa rubrica perché secondo me è utile soprattutto anche approfondire bene le varie differenze nella produzione del piatto il panetto il laminato quello che fanno in una determinata azienda quello che fanno in un'altra o comunque non necessariamente l'azienda ma il modo di lavorare alla turca all'americana e all'italiana sono cose interessanti vediamo anche cosa dirà il pubblico che commenterà e cercheremo di capire dove direzionarci però così io per chiudere questo nostro primo incontro volevo farti queste ultime due domande che sono due curiosità mie mi chiedevo come si pulisce secondo te un piatto e soprattutto un piatto va pulito e poi l'altra domanda riguarda il modo di bloccare il piatto con la farfallina e il metallo oppure quella in plastica o senza niente se ci sono delle differenze se si fa perché si fa cosa cosa fai tu cosa preferisci tu e perché queste sono le mie ultime due curiosità allora innanzitutto mi fa piacere dire una cosa visto che noi stiamo dando informazione se si darà vita a una rubrica a cui io spero sempre di poter rispondere alle domande a me farà sempre piacere perché saranno sempre un continuo stimolo quindi vediamo come come si risponderà a questo tipo di situazione e colgo l'occasione non per una pubblicità attenzione non per la pubblicità ma ricordo che noi in Italia abbiamo una fabbrica a che a volte non vuole soltanto venire da acustica ma vuole selezionare dei piatti e vuole vedere il processo di lavorazione ok di un piatto per poi poterlo avere alla fine fra le mani con delle selezioni e con la mia consulenza questa cosa è possibile senza farsi chilometri e chilometri di andare all'estero anche perché comunque all'estero purtroppo in certe fabbriche non ci entro ok quindi ci vediamo a Pistoia a questo punto quindi a Pistoia all'Aufip io già ho programmato dei viaggi a numero chiuso perché comunque ogni batterista deve avere il suo tempo per poter agire con me per poter selezionare dei piatti io mi posso pronotare? ma certamente insomma si può fare questa cosa lo dico perché appunto abbiamo parlato di informazione certo certo ma stiamo dando delle informazioni ma queste secondo me sono informazioni importanti proprio cioè il mio canale cerca di fare divulgazione didattica sulla batteria sulla musica e secondo me saper solo suonare non basta cioè bisogna questa secondo me è come una lezione per me è una lezione sentirti parlare e acquisire delle conoscenze che mi cambiano come batterista come musicista e come la tecnica cioè la stessa cosa il livello di informazione è importantissimo quindi sì sono d'accordo con te è importantissimo perché è vero che musicisti bravi sanno suonare anche con dei piatti rotti il buon Stipe Vetti ce l'ha insegnato ok ma approfondire la conoscenza proprio dello strumento che è sotto le mani non parlo sotto il punto di vista soltanto quindi o dell'accordatura e del montaggio ma molto di più come nel caso del piatto secondo me è un grandissimo aiuto è come poter migliorare la nostra voce perché i piatti o la batteria sono la nostra voce nella musica certo quindi non ci può approfondire la conoscenza creare un rapporto ok che non è solamente quello dell'esercizio quello quando stiamo suonando quindi poi con un bassista un chitarrista un pianista ma conoscere molto di più di quello che è la scelta di un piatto o anche di un tamburo ogni tamburo ha un criterio di accordatura anche lì perché esistono le inghi esistono le pelle c'è un mondo dietro incredibili se non vogliamo parlare soltanto di piatti ok anche se maggiormente sono conosciuto per quello ok non può fare altro che migliorare quindi invito molti batteristi ad approfondire un certo tipo di conoscenza perché oggi ce ne sono che esistono i mezzi ecco perché dicevo anche magari per chi a volte volesse farsi un set in fabbrica per quanto riguarda la UIM esiste anche questo tipo di possibilità perché si può fare poi ritornando invece chiusa questa parentesi rubrica magari futura di altre domande allora per quanto riguarda la pulizia dei piatti esistono esistono tanti materiali per pulire i piatti esistono anche lì tanti video che ho visto in maniera come dire fai da te con il caffè con il limone di tutto io ho visto veramente fare di tutto ma di base io dico meglio impegnarsi a trasportare il piatto bene in una custodia a non sporcarlo ma che il piatto si sporchi se il piatto non ha ossido il piatto non va pulito se il piatto ha ossido va pulito perché l'ossido sappiamo corrode ma la macchiolina di bacchetta o di chi che sia oppure il piatto che è spazzolato con la finitura brillante si perde col tempo è anche quella più bella che ci fa godere solamente a vederla ma che poi purtroppo è quella che poi nel peggior modo si deteriora ok diventa opaca e brutta non cambia non cambia neanche il suono del piatto oddio il suono del piatto cambia ma non in base al fatto che si sia modificato che non è più pulito ok il piatto si può modificare perché qui porreremo eventualmente ci saranno obbligo il piatto funziona con il criterio di una molla veramente il piatto ha una stagiura e si modifica ma può migliorare non è detto che debba peggiorare quindi ha una vera e propria stagionatura ma non voglio uscire fuori discorso questo è un altro è un altro tema questo lo approfondiremo questo lo approfondiremo ok pulire il piatto solamente se c'è ossido ok anche qui magari sono un po' anticommerciale esiste tanto liquido per pulire il piatto cerchiamo di non far riprendere urti al piatto cerchiamo di non far riprendere quindi la miglior custodia possibile ok mi rendo conto e spingo spesso per quelle rigide perché le persone spendono cioè per quattro piatti duemila euro e poi magari prendono una custodia prendono una custodia e poi di 60 euro che voglio dire è vero è ingombrante io mi rendo conto ma stanno duemila euro di piatti certo e capisci stanno c'è il sudore e quindi sono sempre anche se esistono delle custodie semirigili fatte bene ma devi sempre più fare attenzione quindi mi preoccuperei più di questo che di pulire il piatto ok poi appunto mi ripeto nel caso di ossido allora lì si agisce con delle svariate paste che esistono sul mercato trans indian mai non le via dicendo però meglio andare meglio andare su queste qui fatte apposta penso no sì devi devi impegnarti anche a punirlo bene perché comunque spesso mi dicono come si fa si spalma si lascia riposare il polish ok diventa biancastro un po' e poi con lo straccio in microfibra il famoso olio di gomito facendo attenzione alle scritte perché altrimenti risporchi il piatto perché porta via anche le scritte ogni tanto va fatta questa cosa anche perché per un po' per i nostri occhi sai l'occhio voleva la sua parte quindi riprendiamo un po' col piatto ma su piatti di questa finitura non serve a nulla lo dico in anticipo su piatti di questa finitura non serve assolutamente a nulla perché non siano dei piatti che sono spazzolati satinati con la tornitura e quindi ci perdiamo il tempo poi perdere tempo a come montare il piatto questo è interessante perché ho visto da alcuni batteristi quali sono stato anche insieme tipo come Chris Coleman e Anika Nils montare i piatti esattamente al contrario un vero e proprio incidente frontale se io mi chiedevo questa cosa ma non si rompe te la spiego te la spiego se noi facciamo attenzione a come sono seduti i batteristi i batteristi sono seduti molto alti quindi se noi mettiamo vogliamo copiare magari quel batterista e tenerlo in quella maniera il piatto mi spiego subito non so se si vede bene ok ti posso garantire che loro quando lo montano con questo tipo di inclinazione ma ci arrivano da sopra non ci arrivano mai da qua quindi l'impatto non è mai devastante quindi se vogliamo magari noi non montiamoli così eventualmente ma se li vogliamo montare dritti ok siccome sono i piatti molto dinamici addirittura i crash cresciano con la punta manco sono lì di taglio ma se li vogliamo montare dritti ci dobbiamo arrivare da sopra se io però monto questo piatto in questa maniera dritta ma lo tengo alto io sto cercando di distruggere il piatto quindi ho inclinato se lo teniamo alto o se lo vogliamo tenere dritto lo dobbiamo tenere basso no dobbiamo stare più in alto sì ok perché se lo teniamo a punto come vedo alto è un incidente frontale non va bene certo quindi questa è un'altra cosa di cui mi preoccuperei di come montare in base a sia sull'inclinazione che sull'altezza del piatto per quanto riguarda poi i vari cloche che esistono se non c'è niente è meglio se non c'è niente è meglio lasciamo respirare il più possibile il piatto anche se poi esistono i famosi simpaldi questi feltrini con le varie densità che funzionano bene con tutto che non li vendiamo ma ti ripeto non siamo a fare pubblicità o chi lo sa che cosa diciamo le cose come stanno come del resto io le dico da acustica è sempre stato così mettere dei buoni feltrini ma se sopra non si può mettere nulla meglio ancora però io sono rocco il piatto mi può partire allora noi un croccio ce lo mettiamo una farfalla classica ce la mettiamo ma l'importante è che il piatto non sia serrato che possa liberare il piatto deve vibrare è come cioè il piatto deve respirare è come qualcosa davanti non deve essere stretta non deve essere stretta idem per il charleston che spesso ho visto questi charleston montati ma proprio serratissimi perché pensano di avere più sensibilità col piede di essere più precisi ma la sensibilità tu la devi acquistare col piede non facendoti aiutare da un top montato da un charleston serratissimo rigido rigido certo assolutamente questo è sempre il mio avviso chiaramente io non dico che ciò che dico è legge assolutamente però è il mio pensiero è il mio pensiero e ci credo tantissimo quindi non serrare i piatti montarli bene con ciò che è stato detto prima ottima custodia ok e poi pensare alla pulizia quando c'è ossido io ti ringrazio queste cose mi interessavano parecchio perché intanto ero curioso di sapere come la pensavi tu e poi sono contento perché diciamo che mi sono comportato bene finora con i miei piatti allora sono sono più rilassato e beh tu c'hai dei miei piatti e li vanno trattati bene quello sicuramente c'è stato fatto un grande lavoro lo sappiamo bene poco prima di sentirci noi per questa per questa chiacchierata mi ha telefonato Iosemo Bilia che ti salutava ai miei saluti che lui ha visto i miei piatti abbiamo fatto dei concerti assieme a un certo punto mi ha detto ma lo sai che voglio i tuoi piatti e quindi allora poi io gli ho detto devi parlare col dottore perché a questo punto è troppo importante ma gli hai fatto un bel set tra l'altro mi sono piaciuti molto i suoi piatti bene 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 mi fa cercheremo io cerco sempre di accontentare chiunque insomma si possa interfacciare con me nel miglior modo possibile che possa spendere il minimo o il massimo l'importante con il budget che si ha cercare di accontentare il più possibile il batterista questa è la prima cosa è cercare di essere preparati sulle esigenze che ti vengono richieste certo è questo va bene Fabio io ti ringrazio salutiamo salutiamo tutti che vedranno il video e ci diamo un appuntamento ha dato da destinarsi a questo punto se non abbiamo annoiato se non abbiamo se non abbiamo annoiato magari non lo facciamo più anzi chiediamo scusa prima infatti probabilmente quando pubblicherò questa cosa scriverò è una è una lunga intervista quindi o ci avete tempo o non avete tempo siete di comodi tranquilli bravo tanto non si paga nulla sono informazioni assolutamente tutto tutto gratuito perché fa piacere poter diffondere determinate informazioni sono importanti certo e grazie alla gente si possono si possono fruire in maniera semplice e anche ad un livello elevatissimo come in questo caso io ti ringrazio ti abbraccio ci sentiamo presto un piacere che ti ringrazio